40 anni fa a Londra il matrimonio tra il principe Carlo e Lady Diana. Milioni di persone nel mondo rimasero incollate alla tv per quello che doveva essere l'inizio di una favola. Il corrispondente Marco Varvello. In un pomeriggio soleggiato di 40 anni fa davanti allo splendore della giovane coppia e della sfarzosa cerimonia stregati dall'abito della sposa, 7 metri e mezzo di strascico, dalla carrozza cavalli, dalla folla festante era stato facile per tutti credere che davvero quella fosse una favola dei tempi moderni. Tutti si fecero incantare, tranne proprio i protagonisti. Lui, Carlo Winsor, principe di Galles, erede al trono d'Inghilterra, 32 anni, irrisolto tra doveri dinastici e amore negato per la fiamma di sempre, l'esuberante Camilla. Lei, Diana Spencer, famiglia di nobilissimo lignaggio, ma personalmente senza arte ne parte, 20 anni appena compiuti. Entrambi cedettero a pressioni enormi per un matrimonio che sapeva da fare, direbbe il Manzoni. Nozze combinate, esito probabilmente inevitabile, anche se troppo di parte fu la velenosa accusa di Diana in una famosa intervista. Eravamo sempre stati in tre, o forse anche più numerosi. Il resto è storia, la favola si spezza presto, il dolore diventa ribellione, Diana scardina ogni protocollo, diventa la principessa del popolo, separazione, divorzi o fino alla tragedia dell'incidente di Parigi. Ma 40 anni fa, difficile non farsi sedurre dal sogno di un amore con la maiuscola. È tutto, ci fermiamo qui, grazie per averci seguito e buona serata.